Ladies and gentlemen, lo studio prende lentamente forma Il problema dell'eco dovrebbe essere abbastanza risolto Ho preso un tappeto, abbiamo comprato con il capitano questa cosa qua dietro L'ho spostato tutti quanti i pupazzi dell'altra postazione Fatemi sapere se è un po' meglio Non capisco perché la mia videocamera ogni tanto decida di mandarmi fuori fuoco Risolveremo anche questo, non vi preoccupate Lasciate un bel mi piace perché oggi spacchettiamo gli star drop del mega salvadanaio E ovviamente c'è un doppio appuntamento perché alle 18 ci sarà anche la one block Non mancate, un bel pollicione in su, iscrivetevi a carta della campanellina Io vi auguro, una buona visione Allora io entro e abbiamo già uno star drop Non so che cosa significa, spero che ce lo diano bello poderoso No, uno star drop raro con dei punti energia Va bene ma a cosa è dovuto? Si è già rotto il mega salvadanaio appena entro? Dovrebbero essere 30 star drop, per favore Super raro va bene, dammelo epico Ah, va bene così Un po' di punti energia, ce li accettiamo sempre Per favore, ti supplico Non tutti rari perché impazzisco eh Voglio almeno un mitico O un leggendario Oh mio dio, siamo già a 4 Super raro E niente Dai, i punti energia vanno sempre bene ovviamente E sali di livello Per favore Non piangere Non ci rimanere male Io lo star drop, quello raro non lo volevo Lo volevo almeno leggendario Dai no Dai, come? Epico Ok Meglio di niente Va bene Un emoji di Carl Ci può stare Super raro Epico Ti prego No Poteva essere mitico ragazzi 200 monete Let's go Dai, più andiamo avanti Più me li dai fighi, vero? No raro No raro Non lo accetto Devi smetterla di darmi li rari Perdo la pazienza No Tutti rari ragazzi Fatemi sapere nei commenti Oh, perché è andato subito epico? Dai Questo me lo potevi dare anche mitico però eh Porca di quella zozza Emote di Jesse Sclerata Un mitico o un leggendario Altrimenti No Non ci sto Non ci sto Me li stai dando tutti Epico pure questo raga 100 punti energia Che non sono male Però Non mi fare questa roba Fai finta di darmelo più potente E poi è epico Abbiamo finito C'è uno star drop leggendario però Attenzione Ti prego Allora O mi dai Un'abilità stellare di qualcuno O un brawler leggendario Ti prego Corvo O kit Per favore Oppure Una skin bellissima Non t'azzardare a darmi emote Perché Perdo la testa eh Va benissimo L'overdrive Di spike Raga Questi sono 5.000 risparmiati Yes Raga Tanta roba Molto molto bene La lega dei trofei È finita Ok Cosa significherà Che la lega dei trofei È finita Ma mannaggia Ma io Volevo vederlo Spacchettare Nel mentre Sono salito Leggermente Di trofei Utilizzando Edgar Che È devastante L'ho maxato Così abbiamo anche Il suo overdrive C'è un altro star drop Da aprire qua Facci godere Per favore Ci accontenteremo Di quello raro Devo contare Quanti ne abbiamo aperti Perché secondo me Non erano tantissimi Sarebbero state una ventina E cercheremo ovviamente Di fare tutte le vittorie Che ci mancano Per sbloccare Altri 3 star drop Vediamo cosa offre Quest'oggi Il negozio C'è Bo Mecca Che mi avete detto Di provare a utilizzare Bo Che sarebbe l'aquilone Va bene Qui ci sono un po' Di monetine Del dono infinito Di Njord C'è Meg No Non glieli do Però più volentieri Mi prendo queste Mille monetine A 29 Queste fanno Sempre comodo Le skin di oggi Nah Non ci interessano Regalo del giorno Però Insomma se ci dai Dei punti esperienza Così gratuiti E anche dei punti energia Non vedo perché Non raccattarli Non c'è proprio motivo Chi utilizziamo Quest'oggi Perché abbiamo Varie opzioni Teoricamente Potrei Effettivamente Giocare Con Bo Che sembra molto forte Ed è quello che piazza Praticamente le bombe A terra Oppure il Dinamitardo pazzo Il Dinamike Tra l'altro abbiamo Poi la skin per lui Con i peperoncini In mano Bellissimo Dovrei portarlo Magari a un livello Superiore Così potremo Prendere l'abilità Stellare Solo che poi Non so Se ci bastano I soldini Vediamo Allora intanto L'abbiamo portato Al 9 Non ho neanche Uno dei suoi gadget Fidget spinner Dinamike gira Su se stesso Spostandosi Sempre più velocemente E scagliando Attorno a sé Una miriade Di candelotti Dinamite Ciascuno dei quali Causa 2000 Cioè Cosa Ma è fortissimo Carica stordente L'attacco normale Successivo L'attivazione del gadget Stordirà i nemici Allora questo me lo usano Molto spesso contro Però Il fidget spinner Ragazzi è fighissimo Solo che Con la carica stordente Se colpisco Lo stun Quindi colpisco Anche col secondo E col terzo Attacco di base Che non è Per niente male Prendo la carica stordente Perché è quella Che ho visto utilizzare Di più Contro di me Per lo meno Vediamo la sua Abilità stellare Dinamike Riesce a cavalcare L'onda d'urto Delle sue esplosioni E a scavalcare Gli ostacoli Ok Questa la usano In tanti Con la super dinamike Causa 1440 danno in più Questo secondo me Non è necessario Prendiamo il salto esplosivo Che in questa maniera Magari possiamo Toglierci da situazioni Scomode Di equipaggiamento Oddio Io metterei comunque Lo scudo In ogni caso Lo scudo a me piace Perché lo sapete Al inizio c'hai un po' Più vita Di quanto Non dovresti avere Normalmente Siamo alla soglia 7 Qualcuno ha scritto Eh ma avevi detto Che giocavi solo Dalla soglia 10 È un periodo Piuttosto impegnativo Immaginatevi che abbiamo Dovuto fare un mega Trasloco l'altro giorno Quindi Non ho avuto proprio Modo di sbloccare La soglia 10 Per tutti i brawler Che avrei voluto utilizzare Se volete Lo facciamo con Bo Per il prossimo appuntamento Che me lo preparo Vediamo quali sono Gli eventi Della giornata Sopravvivenza Raffagemmi K.O. Dominio Annientamento Foot Brawl Con Dynamite Volendo posso Tirare da lontano Un botto di dinamite Quindi partirei Con un dominio Dobbiamo fare Almeno 10 vittorie Sicuramente Fagli superare la soglia 10 Qualcuno mi ha detto Ma perché non porti Neanche un brawler Alla soglia 20 Non è vero Perché Jesse Ce l'abbiamo sulla soglia 20 E basta Effettivamente Spike è molto vicino Tra l'altro abbiamo sbloccato Come avete visto Dallo star drop leggendario Il suo Overdrive Che significa Che potremmo Provarlo Alla fine del video E vedere com'è Con l'overdrive Dai Facciamo un po' di dominio Con il nostro dinamite Vediamo qual è la mappa di oggi Ok Doppio presidio Ci sta Edgar deve combattermi da vicino Quindi posso in qualche modo Ehi Edgarino No eh Ok così Buono Un botto di danni Però può schivarmi facilmente In realtà E muori Ho già la ulti Bro Puoi morire o no Aiuto Mi sta pushando Eh ho capito E muori Oh ce l'ho fatta Buono buono Anche i miei compagni Hanno preso il presidio Tirano una bella granatina Lì per vedere se c'è Eccolo Sta arrivando Doppia bomba Ehi No bello mio Esplodi Bam La ulti fa tanto danno Ma effettivamente Non l'ha one shotato Forse perché non ho La giusta abilità stellare Avrei dovuto mettere l'altra Non lo so Sinceramente Posso aiutare dall'altra parte Sembra proprio di sì Gli tiro la bomba addosso Oh mi è saltato addosso Il pazzo No mollami Mi ho ucciso Dai però che siamo al 95% 97 97 Ci siamo bloccati No 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 Prende il controllo Ah questo presidio è full Dobbiamo prendere l'altro Oh cavolo Mi sa che qualcuno Me l'aveva detto Nei commenti questa cosa Abbiamo vinto Ok Sono il migliore Ma sinceramente Ho giocato malissimo Devo prendere le misure Con questo brawler Lo avevamo usato in passato Ma quando dico in passato Si intende 5 anni fa ragazzi Vai con il nuovo star drop Super raro La gioia del mitico Non ce la vogliono dare È incredibile Pure qua ci avevamo uno star drop Da aprire ragazzi Eh Me l'avrò tenuto da parte Solo esclusivamente per voi Ancora una volta Super raro Voglio almeno mitico Dai Buone queste monetine Molto bene One more Dai così Raro Raddoppio dei punti esperienza Sicuramente riusciremo Ad arrivare anche al prossimo E abbiamo sbloccato Grom Una guardia corpulenta Che nessuno oserebbe affrontare Tuttavia il terrore dei ragazzini Per via del suo precedente Impiego in un asilo Quei marmocchi erano spietati Allora Io volendo Posso prendere Bibi Perché mi avevate detto Che è molto meglio di Grom Ci sto Seguo il vostro consiglio Prendo Bibi E il prossimo Che sbloccheremo È mitico Come per l'altra volta Scrivetemi nei commenti Qual è secondo voi Il migliore Attualmente Io prendo Mr. P E poi comunque Siamo sempre in tempo Per poterlo cambiare Dai che se saliamo Un po' di livello Qua nel pass Possiamo sbloccare Altri star drop Abbiamo fatto solamente Una partita Veloci Dinamike Nonostante lo scudo Ha meno di 6.000 punti vita Tiriamo un po' di bombe Là dietro Vai Distrutto Devastato Oh yes Bam Ma secondo me Prendo Dopo cambio Il gadget Ve lo dico E prendo quello Anche della trottola Tanto ho preso Il controllo Del presidio Vieni vieni Bella Vieni qui Fatti detonare Bene bene Arrivano Molto male Ti ho fatto molto male Ma pushano No 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 Tara Allora vediamo di usare Il gadget Per stunnare La mia prossima bomba Stunna Cerchiamo di tirarla per bene Devastante Devastante Effettivamente C'è di nuovo la ulti Mi uccide Tara Sicuro Però ho ucciso anche io lei Abbiamo uno In squadra che si chiama El Primo Ma in realtà è Griff Dai che me ne arrivo Dalle retrovie Butto un paio di granatine lì Guarda Già devastata Shelly Easy Questa è vinta Tiro anche la ulti Vediamo se facciamo qualcosa Molto male Abbiamo fatto molto male One shot Tatara Non siamo i migliori Ma abbiamo fatto tantissimi danni Che va bene così Siamo in serie di vittorie Finalmente Checco vuole giocare Checco vuole sempre giocare Dai Accettiamo Accettiamo l'invito di Checco Eccoci qua Che c'ha Colt Tutto schinnato Con 300 trofei Mi manca solo l'overdrive Si è unito subito anche Max Adesso che posso lanciare le granate Mi sento devastante Vediamo se riesco a fare gadget Granata 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 Ok Li ho un po' allontanati Che va bene in realtà Così mi prendo io la palla Ciao Ciao Vai così Eccoci qua Melody mi fa fuori Perché mi attraversa Praticamente Bene Dai Dai adesso Adesso dobbiamo andare Raga prendete quel pallone È morto Unlucky Distrutta eh Distrutta Dai che posso fare piazza pulita Volendola eh Oh no Bello che Dynamite Da dietro le pareti Può proteggere anche il pallone Nita completamente detonata C'ho ancora la ultima Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Bravissimo Checco Andiamo Dai che è tutto aperto Oh mio dio La palla è sulla riga Oh mio dio Dai ho tirato la bomba Dovremmo riuscirci Vado eh Vado 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 Non può uccidermi Yes Un 400 di vita Aveva già usato tutti gli attacchi Bene così Oh È impazzito È impazzito È impazzito Dobbiamo proteggere il goal Dobbiamo assolutamente proteggere il goal Passa qua se vuoi Tiro la dinamite enorme Ok L'orso non penso che possa segnarci Ok Riattiviamo lo stun Può aiutarci adesso Molto bene Stunata Nita Butto la mega là La su Sì la mega La super Ovviamente Bro È tutto tuo eh Per favore Yes Buono buono Un buon teamwork Checco migliore Con 74 mila danni Ci sta Raggiungiamo la soglia 8 Gioca ancora Quando arriverà questa porta? Non lo sappiamo Però aspettiamo con ansia Non è l'audio finale eh Perché devono arrivare i pannelli fonoassorbenti Abbiamo contro due leggende Due Bene Speriamo da dio Speriamo da dio È proprio là dietro Maledetto No Oh ma questo No dai mi è comparso dal niente Max devi andare Devi andare perché arrivano eh Detonato Max No Non ci voleva Via il pallone Vai 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 Checco Ho pochissima vita pure io eh Devo riuscire a fermare quello Mi uccide? Per poco Per poco non mi ha fatto fuori Provo a proteggerla il pallone Oh basta camperarsela là dietro Ho ucciso qualcuno Molto bene Però devo curarmi Troppo importante Anche perché c'ho il gadget dello scudo Devo tirare nuvole speedy Ma chi è? Bella lì Botto i danni sul tipo laggiù eh Questo cosa sta facendo? È sparito Eh ma io non li conosco Metà Oh no Tutto nelle mie mani raga Bomba Vabbè ho avuto tempo di far rinascere i miei compagni eh Guarda quello che sta avvicinando il pallone non va bene Siamo 0 a 0 Prendo io il pallone Basta ho deciso Occhio alla ulti Dai 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 Max Dai che è tua No Checco nelle tue mani eh Checco nelle tue mani Dai che li ho devastati Li ho devastati bro Eccoci Li ha fatto fuori Però checco l'ha buttata dentro Si gode C'ho la ulti Dimmi che li prendo Oh si li ho presi di brutto anche Andiamo Andiamo a vincere sto game Andiamo a vincere Oh mio dio raga Mi ha scoppiato Mi ha letteralmente Stiamo prendendo una marea di danno 7 secondi Dobbiamo solo resistere Buono Abbiamo vinto Let's go Let's go Checco sempre il migliore Quasi Soglia 9 Manca un pelo Uno star drop super raro da aprire Sono uscito Ho sbagliato Ho sbagliato Mannaggia Ma cos'è quel brawler ragazzi Ma è un hamburger Con le patatine in mano Ma chi è Abbiamo vinto contro due leggende eh Giusto per farvelo capire Dai così Con lo stun Missato tutti Complimentoni Stefano Io me ne sto qua dietro ancora un attimo eh Vediamo se riusciamo a uccidere Melody Sì Presa Ok Molto bene Dai che prendiamo quel pallone e la vinciamo Dai che ti distruggo tutto vai Non ci posso credere Però l'ho portato a casa Griff L'ho ucciso eh Me ne passo da dietro Attenzione Lo stealth Faccio gol con la super Yes Let's go Oh 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 Attenzione La mia squadra è partita Quello dovrebbe morire Ottimo Voglio anch'io Peccato Uccidiamo Melody per favore Dai che c'è poca vita Andiamo 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 Eh ho capito Ma Melody fa quello che vuole Col movimento Cioè Non la ferma nessuno Se vuole spostarsi da una parte all'altra Fa quello che vuole Oh 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 Ok Devo guadagnare tempo per la mia squadra Almeno Ok Raga un miracolo eh Un miracolo Che siamo vivi Eh infatti non accadrà Uno a uno Dai C'è quella Melody È fortissima E ricarica pure subito la super Griff devi esplodere lo sai Esplodere Do you know what is E sono morto io No non ci credo No no per favore Per favore Dai però Cioè veramente Questi sono in chiamata Ve lo dico Dai facciamo un po' di arraffagemme Cosa sta usando Maxis bro Che cos'è quel bro Due granatine lì Ok Prendo io la gem Giusto per averla eh Niente di che Ok buono Stiamo prendendo terreno Questo è molto bello Quello dovrebbe esplodere Dai Ho già la super bella che è pronta Dai Melody Ti aspettiamo Traversa pure il coso Ti aspettiamo al varco Melody Boom Mi sa che conviene usare la super Non appena ce l'ho In questa maniera la ricarichiamo Ho ucciso comunque Tara Senza fare neanche Qua Chissà quale sforzo Melody sta pushando da dietro Aia Mi hanno pushato a me Cioè mi hanno infilato Dentro al loop temporale Nell'oblio No questo non ci voleva ragazzi Cioè se avete capito Dai No ragazzi sono entrati tutti e tre nella Non ci posso credere Dai Riprendiamo immediatamente le gemme Ce ne ha Dove sono? Dov'è? E' là dietro? E vabbè ho capito ma Ragazzi c'è Sans che ha 200 Dai l'ho perso Non possiamo giocare con le squadre In team da tre Vi rendete conto? O cosa? Comunque cioè Allora basta Sono uscito dalla squadra Perché comunque becchiamo gente Che tra yarda tantissimo Dai con lo star drop Potrebbe darci la gioia del meteo Almeno questo eh Almeno questo Abbiamo delle nuove missioni Ok Poi le sbloccheremo Quattro vittorie Per un nuovo star drop Per ritornare in streak positiva Perché purtroppo l'abbiamo persa E' molto meglio se gioco contro quelli al mio livello Perché comunque c'è Guarda che Dynamite Non lo giocavo come ho detto A cinque anni Cioè mi saltano addosso Non posso fare molto Perché da vicino Sono praticamente inutile Cioè io funziono da dietro le pare Aaaaa Aiuto Ok l'ho ucciso Plusso Anche En Capito perché devo giocare contro quelli al mio livello Perché Cioè me la gioco molto meglio Adam Gamer Cosa vuoi fare scusa me Pazzo di feccia Allora esplodi Easy Vado a sinistra Mi prendo la jump Mi fa una paura assurda Prendo lo stun Aaaaa Arrivano Bomba atomica Bomba atomica là dietro Devastante Adam Gamer morto En No En Non puoi scappare Non puoi fuggire da noi Il migliore Ah vedi Soglia 9 Dai che siamo subito alla 10 Forza Io vorrei capire che tu la mia Alla videocamera Comunque c'è da Spostandola da casa A qua E' successa questa roba Non ha senso Perché non ho Modificato nulla Delle impostazioni Cioè Ma cosa vuole Preso lo stun Aia Sì mi sono preso Ma un razzo Di piper Nelle gengive Si ho capito Ma contro sono Tut Eh vabbè Tua madre Tua madre Mi fusciano Ok un po' di danno Era necessario Quanto lontano arriva Il colpo di Bea Molto lontano Eccoci 2v1 Mo' devo clashare La partita Non sa Eh vabbè Non sa nulla Mi proteggo Con questo aggeggino Morto? No No Piper Piper Vaffan cuore Cioè mi è veramente Stufato eh Sì Vabbè Dai Beh Scorrettissimo Scorrettissimo Vai indietro Kira vai indietro Eh vabbè Il primo è andato A far si uccidere Buono lì Kill Uno di vita Eh no ciccio Eh no ciccio Penso di fuggire Ma non accadrà Piper Dobbiamo push No vabbè È rotta Piper scappa No 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 Dai ragazzi No Via L'ho colpita La clacciamo La clacciamo Sono fortissimo Sono fortissimo Sono fortissimo Let's go Il primo è partito da solo Cioè No questa roba Non mi piace per niente Raga Cioè ma come giocano I miei compagni di squadra Ho ucciso uno Sono devastante Ho quasi ucciso anche la Muoio Piper a 100 di vita Sono 2v1 di nuovo Finita L'ho uccisa Oh mio dio 1v1 1v1 Ok un po' di danni Glielo fatti C'ha la ulti quel coso però Vuol dire che se mi piazza la torretta Siamo nei guai Bello 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 E chi è il migliore Ve lo lascio indovinare Eccomi lì Ho salvato due partite in solo Contro due diamante No ragazzi Mi voglio giocare da solo Perché Sono a livello ancora Di apprensione Quindi Calma Due Vittorie Ancora Cambiamo modalità Così le abbiamo fatte un pochino tutte Quest'oggi Annientamento Erano 10 kill Vero? Chissà di sì Dai Altre due vittorie Sblocchiamo un altro star drop E chiudiamo l'episodio di oggi Dina Mike Ci sto riprendendo la mano Però avete visto eh E' sicuramente più forte in mappe dove ci sono gli ostacoli Allora c'è qualcuno in oro 1 Ho visto bene Non ci preoccupa Non ci preoccupa Ok un po' di dannini Bravi compari Bravo Posho Vieni vieni Posho esploso La mia bomba atomica Non ho ucciso nessuno Bene Complimentoni Stefano Stanno cesando Ehi Dai raga Ho fatto l'unica kill della partita L'ho fatta io eh Ok Boni Boni qua Boni qua Perché c'ho poca vita Muore? C'ha uno raga C'ha uno C'ha anche la ultima Eh non so I miei compagni dicono Sai cosa? Ma fammi andare a morire Guarda Pusciano da soli C'è lo sbavale Ma stiamo attenti o no? Ok quello dovrebbe morire Dai a uno Oddio stavo per morire Dall'arcobaleno Non ci credo che questa roba Doppia kill con Sono fortissimo Sono un demone Oh mio dio Piper veramente Cioè quel proiettile Arriva dall'altra parte Della mappa E' una roba disgustosa Doppia kill con la bomba Due sicuro Due tutti Yes L'abbiamo remontata L'abbiamo remontata raga E mo che fai Piper? E mo che fai Piper? E' finita Scappata con la ulti Non ci credo Abbiamo vinto lo stesso Il migliore? Chi è? Salve Buongiorno Eccomi qua Soglia 10 raggiunta Anche per Dinamike Una vittoria Ci separa Dallo star drop Qua siamo lontani Ancora fino ai 7.50 È lunga Annientamento però ci sta Dai 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 L'ultimo star drop di oggi Forza Due persone in oro Contro Se sono rankate Non possono essere bot Vi torna Altrimenti non sarebbero rankate Buono Buonissimo Sono partito con buoni danni Caricato mezza super Vieni Brock Vieni Brock Aia Brock mi ha fatto male Ma non importa Non importa Ho preso la super Ho la super 4-1 Mo' facciamo male a tutti eh Con la mia super Doppia kill Madone E ce l'ho di nuovo la super No questa cosa è clamorosa Ragazzi questa roba è clamorosa Boom La mia super ha ucciso un'altra persona Di nuovo Ce l'ho di nuovo Attiva Pazzesco Una vittoria Una kill L'abbiamo vinto E' il migliore E' il migliore E' sempre lui Madness Sì Vediamo Che cosa Sì 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 Può essere leggendario Calmi Calmi No No Mitico Però va bene Sì E' un segno ragazzi Dobbiamo giocare Boh Abbiamo sbloccato anche il gadget Poteva andarci meglio Però sono mille monete risparmiate Va bene lo stesso Fatemi sapere se il gadget giusto Oppure no Ovviamente Però Abbiamo trovato anche Il Eh E' lo star drop Mitico Che ci voleva Per chiudere il video Cari amici Questo episodio di Brawl Stars Termina qua Io spero che vi sia piaciuto Mi raccomando Tanti pollicioni in su Iscrivetevi al canale Ci vediamo anche il 18 Con un nuovo video Qua sta per tutto Pone Vedete appena riprendo la mano Con un brawler Che non usavo da un po' di tempo Poi Migliore 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 Grazie.